Leggiamo dunque da Atti capitolo 8 a partire dal verso 26. Un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo alzati e vattene dalla parte di Mezzodì sulla via che scende da Gelusalemme a Gaza. Essa è una via deserta. Egli alzatosi partì. Ed ecco un etiope, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i suoi tesori. Era venuto a Gelusalemme per adorare. Ora stava ritornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, ludì che leggeva il profeta Isaia e disse, capisci le cose che leggi? Ed egli rispose, e come potrei comprenderle se nessuno mi guida? E pregò Filippo che salisse e sedesse con lui. Ora, il passo della scrittura che leggeva era questo. Egli è stato condotto all'uccisione come una pecora, e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa, così egli non ha aperta la bocca. Nella sua umiliazione fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. Leonuco, rivolto a Filippo, gli disse, di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso, oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunciò Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E Leonuco disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, è possibile. Leonuco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. E comandò che il carro si fermasse, ed iscesero entrambi nell'acqua, Filippo e Leonuco. E Filippo lo battezzò. Quando uscirono fuori dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e Leonuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot, e proseguendo evangelizzò tutte le città, finché giunse a Cesarea. Questo racconto è uno dei racconti più noti degli Atti degli Apostoli, ma quello che colpisce, dicevo, in genere del libro, ma in particolare della vita di Filippo, è questo rapporto intimo, profondo, continuativo e manifesto, quindi che non solo realizza lui, ma che manifesta all'esterno, con ciò che appartiene al Regno di Dio. E non parlo solo di giustizia o santità o delle virtù cristiane, parlo proprio del Regno inteso come manifestazione dello Spirito di Dio, manifestazione sovrannaturale, preternaturale, cioè gli angeli e miracoli, segni, contatto, comunione diretta con il Regno di Dio. Questo è molto, molto interessante. Dicevo nell'introduzione, non si tratta di un misticismo che è più fantasia o emotività che realtà. Qua è la realizzazione delle promesse che sono in Cristo Giosù. Egli disse che il Regno di Dio sarebbe stato in mezzo a loro e che loro sarebbero stati il Regno di Dio. Disse loro non andate qui, là, laggiù, perché il Regno di Dio è in mezzo a voi. Così come il sovrano di quel Regno era sceso per vivere in mezzo al popolo, l'Emmanuele, Dio con noi, così fu la promessa che essi non sarebbero stati lasciati soli, ma che lo Spirito di Dio sarebbe sceso per guidarli nella verità, ma anche per dar loro potenza, cioè quella forza al di sopra delle loro forze, quindi sovranaturale, proveniente direttamente da Dio, che li avrebbe messi in grado di compiere quelle opere che Cristo aveva loro promesso. Voi farete opere maggiori di quelle che avete visto compiersi attraverso di me. Queste promesse sono realizzate nella vita dei discepoli. Lo vediamo in modo glorioso, a volte anche a tratti drammatico, come fu per Stefano o per Giacomo, ma lo vediamo realizzarsi in maniera gloriosa nella vita di Filippo, ma anche nella vita di Pietro, non solo nell'episodio narrato al capitolo 12 della liberazione dal carcere, ma anche in tutto quello che fu i segni, i prodigi, i miracoli che accompagnarono il loro ministerio e la loro evangelizzazione. Filippo ci colpisce, sapete perché? Perché gli emerge dalla Chiesa non perché chiamato a un ministerio particolarissimo, non perché è eletto tra, anche se fu eletto come responsabile delle mense, ma emerge dalla Chiesa come chi ama la comunione con Dio. Fu scelto tra la Chiesa assieme ad altri perché era ripieno ripieno dello Spirito di Dio. Questa era la caratteristica che dovevano avere. Ed era ripieno dello Spirito di Dio perché? Perché alla ricerca dello Spirito di Dio si dedicava. Ed è chiaro che questo era il suo diletto perché se così non fosse stato non avrebbe né avuto il ruolo che ha avuto all'interno della Chiesa per scelta della Chiesa stessa, ma non sarebbe stato quello strumento glorioso che mise sottosopra la Samaria e poi continuando con quel glorioso successo nel ministerio evangelistico ovunque egli andò. Quindi quello che voglio mettere in evidenza quest'oggi è questo che quando un credente riesce a vincere tutti gli ostacoli che la propria carne, le circostanze, il mondo e il diavolo gli pongono dinanzi per impedirgli di fare fondamenta, di radicarsi profondamente nella comunione con Dio, quello che il credente trova sono ricchezze profonde. Chiaro è che questo è legato anche a un particolare momento di risveglio, ma chiaro è anche che Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi in Eter e che le promesse fatte a loro sono le stesse che vivono anche oggi in noi. Qual è il punto? Quello che a me affascina degli atti degli apostoli è che sebbene in un primo momento dopo la morte di Cristo e devo dire con tristezza anche dopo la resurrezione di Cristo li vediamo in un momento quasi ritornare alle loro attività. Ricordate Giovanni ne parla io vado a pescare anche noi veniamo con te passarono la notte sul mare e non pescarono nulla poi videro qualcuno che stava arrostendo del pesce sulla spiaggia Gesù gli andò incontro il regno di Dio si manifestò per far rendere loro conto che oltre alla vita che avevano intorno a loro era stato dato un privilegio una grazia che era gloriosa oltre modo essi erano il regno di Dio sulla terra erano la chiesa la sposa il tempio di Dio e a loro Dio aveva fatto delle promesse glorioso loro dovevano essere in comunione non solo potevano ma dovevano essere in comunione con la gloriosa realtà del regno di Dio se volevano portare questo regno a coloro che erano lontani e così noi vediamo intorno a loro la gente disorientata nel vedere manifestarsi la gloria di Dio come accadde con Paolo quando rese cieco Elima o quando si manifestò il glorioso risveglio appunto in Samaria o come in questo caso in cui Dio ha un piano ha un piano ben preciso e a volte Dio agisce in maniera veramente particolare perché lui ha dei piani che sono tutti suoi e mentre raggiunge i suoi scopi forma gli strumenti che usa mentre raggiunge i suoi scopi a Gerusalemme intendo i discepoli erano rimasti fermi lì anche durante la persecuzione che aveva visto andare via Filippo e tutti gli altri i discepoli gli apostoli erano rimasti lì questo ministro era andato ad adorare a Gerusalemme e ritornava in Etiopia poteva evangelizzarlo Pietro potevano evangelizzarli gli altri Filippo si trovava in Samaria a nord e fece un bel lungo viaggio per scendere giù e incontrare questo Etiope ma Dio vuole compiere qualcosa e vuole usare degli strumenti la cosa che a me colpisce è quello che vi ripeto spesso è che Dio ha preparato delle opere dinanzi a noi ma per poterle portare a compimento queste opere che sono tue non sono di una non era quest'opera non era né di Pietro né di Andrea né di nessun altro quest'opera era di Filippo così come Dio ha posto delle opere gloriose dinanzi a te ma perché noi possiamo portarle a compimento in maniera gloriosa e straordinaria in questo caso è meraviglioso quello che accade noi abbiamo bisogno di credere alle promesse di Dio ma anche di stringerci di stringerci a questa realtà e di credere che ne facciamo parte e che quindi come gli angeli servono Dio e in questo caso inizia proprio con l'apparizione angelica così noi dobbiamo servire Dio in questa terra ma abbiamo bisogno di una comunione particolare chi ce l'aveva mandato l'angelo da Filippo Dio non era un'iniziativa dell'angelo ecco allo stesso modo noi così come avverrà poi a Filippo adesso lo vediamo abbiamo bisogno di avere quella sensibilità quella guida che lo spirito di Dio vuole non solo può ma vuole dare perché è per questo che ci è stato dato per guidarci vi ripeto non in un misticismo che è più emotività che realtà ma in una concreta realizzazione delle promesse di Dio che poi si manifestano nel frutto ebbene Filippo attraversa la Samaria e l'attraversa come fuggitivo ricordate perché c'è la persecuzione e che pensa bene di fare beh pensa bene di evangelizzare le circostanze avverse le difficoltà non distolsero Filippo dalla sua chiamata questa è una delle cose che più mi colpisce mentre doveva scappare non si rivolgeva a Dio con l'unico scopo di mettere in salvo la propria vita ma colse l'occasione per trasformare la difficoltà in un'opportunità e che gloria la Samaria fu messa sottosopra al punto che i discepoli alcuni degli apostoli salirono perché quello che stava succedendo era di una rinomanza notevole tutta la città era posta sottosopra l'intera regione stava per essere conquistata a Cristo e questo perché un uomo vi sale ripieno dello Spirito Santo credendo che il Regno di Dio si potesse manifestare ed affermare attraverso di Lui in totale e completa umiltà perché io difficilmente riesco a trovare un uomo più umile di Filippo perché quando questo risveglio glorioso comincia e quando anche lo Spirito Santo comincia a scendere sui Samaritani l'angelo interviene e gli dice vattene e Lui non esita va ma questo dimostra che vera qualcosa in Filippo che era molto più che aver visto la gloria di Dio attraverso di sé in un risveglio glorioso sapeva che Lui era solo uno strumento non si inorgoglì per questo non lo ritenne suo non scivolò nella carnalità ma il suo piacere era essere nelle mani di Dio e non solo essere le mani di Dio i piedi di Dio gli occhi di Dio attraverso cui Dio poteva agire e anche parlare per operare il fascino che questa storia ci presenta è che quando un credente si unisce a Cristo con umiltà e fede quando fa del regno di Dio il tutto della sua esistenza ciò che dottrinalmente è conosciuto diventa realtà vissuta or tutto è possibile a chi crede in Dio no? Ora questo va visto nel contesto sia ben chiaro qua l'apostolo sta parlando della sua capacità di affrontare le difficoltà di superare di essere perseverante di essere fermo e di poter acquisire virtù in Cristo ma comunque voglio dire qui a un certo punto Filippo sparisce da un posto e appare in un altro per Filippo l'onnipotenza di Dio non è solo dottrina è realtà sperimentata io quando penso a questo miracolo ne sono ne sono estasiato e Filippo sparisce da un posto arriva in un altro e continua a fare quello che deve fare evangelizza tutte le città finché arriva a Cesarea vedete c'è una realtà che non è lontana da noi di cui noi facciamo parte ed è il glorioso eterno regno di Dio quello che dovremmo considerare è che noi siamo parte di questo regno che lo spirito di Dio dimora nel tempio che è la sua chiesa e che le potenzialità quando la consacrazione del singolo credente o della chiesa nell'insieme si fa profonda sono straordinarie infinite voi farete opere maggiori delle mie ed è realtà ora perché dovremmo chiudere queste promesse con il capitolo 28 degli atti degli apostoli perché dovremmo mai perché dovremmo mai quando venne a trovarci il pastore Cascio qualche anno fa e raccontò di come la testimonianza dell'Evangelo si diffuse a Corleone lì era un altro capitolo degli atti degli apostoli che poteva essere scritto quindi non è una cosa chiusa duemila anni fa ma io credo che ci voglia fede io credo che ci voglia ricerca io credo che ci voglia consacrazione io credo che non dobbiamo arrenderci all'evidenza o la realtà che c'è nelle nostre circostanze perché perché il regno di Dio è in mezzo a noi e dobbiamo viverlo e approfondirlo oggi mi sono trovato a parlare ad un uomo che sta attraversando una grande difficoltà pregheremo per lui poi e mentre gli parlavo dell'Evangelo mentre lo stimolavo ad avere fede ad uscire da questa prigionia che è fatta di paure di fede verso ciò che è timore angoscia e dolore una fede fatta una gabbia fatta di una una fede negativa in cuor mio pregavo proprio così signore mostrami la tua gloria manifesta il tuo spirito agisci in libertà in gloria scrivi un altro paragrafo degli atti degli apostoli perché tu ci hai mandato per questo e io credo che quello che deve essere la ricerca del credente sia proprio questo il desiderio vivente di afferrare ciò che appartiene alla chiesa ciò che appartiene alla chiesa non accontentarsi ma nella nostra relazione personale con dio spogliamoci di tutto ciò che si oppone combattiamo il buon combattimento della fede molte volte gettiamo la spugna ma dobbiamo rialzarci invece e rimanere fermi perché perché Dio usa coloro che si dispongono e Filippo era uno di questi prima che il signore torna l'obiettivo della mia vita sta qui in queste pagine vedere la gloria di Dio manifestata in mezzo a noi e attraverso le nostre vite poiché a questo siamo anche stati destinati voglia il signore mettere in noi fame e sete delle esperienze di Filippo però certo non possiamo solo volere la gloriosa manifestazione di Dio senza offrire a Dio incondizionatamente la nostra vita perché egli ne faccia uno strumento per la sua gloria vogliamo dunque dire signore fa che la mia vita sia un sacrificio vivente offerto ogni giorno sull'altare dell'adorazione e del ringraziamento affinché tu possa manifestare il tuo regno in me e attraverso di me e affinché io possa vedere realizzate le gloriose tue promesse che sono della tua chiesa fino al giorno in cui tu ritornerai e che si v